Domenica 11 agosto, grande serata Jets a bordo della motonave Clodia, in compagnia dell'Herry Franco Sextet. Partenza ore 21 dal Piazzale Democrate. Il biglietto del costo di Euro 25 sarà acquistabile presso l'ufficio vendite dell'AMAT in via d'Aquino 21, presso le agenzie convenzionate, online, all'imbarco di Piazzale Democrate fino a 20 minuti prima della partenza. se ancora disponibili. Il Larry Franco Sextet si misurerà con il trascinante genere Dixieland in un concerto che durerà circa un'ora e mezza. Ai passeggeri inoltre sarà servito un gustoso rinfresco con vino e appetizer. Vi aspettiamo numerosi!